Buonasera ai telespettatori di Rete8, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali. Oggi spazio riservato alle liste. Abbiamo quattro liste che si presenteranno con i candidati ospiti nei nostri studi, che sono tutti candidati nella circoscrizione provinciale di Teramo e confronteranno i programmi e soprattutto anche si faranno conoscere personalmente, per quel che riguarda anche l'interarista, agli elettori. Sono due liste che fanno parte della coalizione che sostiene il presidente Marsilio e due liste della coalizione di Legnini. Saluto e ringrazio i quattro ospiti che voi vedete e che sono stati sorteggiati e che si presenteranno immediatamente nella prima delle mie domande per esporre ciò che riguarda la loro partecipazione, la loro scelta di candidarsi e soprattutto anche le liste che sostengono i candidati alla presidenza della regione. Si voterà, come sapete, ormai il prossimo 10 febbraio. Il sorteggio ha assegnato il numero 1 per la risposta a questa prima domanda, poi ovviamente ruoteranno anche le posizioni nelle successive. Alla lista della Lega, il candidato ospite nei nostri studi è Emiliano Di Matteo. Buonasera Di Matteo. Buonasera a voi. Allora, la Lega, ieri peraltro c'è stato Salvini per un nuovo tour in Abruzzo, l'Abruzzo Meridionale in questo caso, Basto e Lanciano. La Lega che punta un risultato di rilievo anche in una regione nella quale storicamente non c'è una forte presenza elettorale, ma che segue anche un'onda nazionale piuttosto evidente alla luce. Non possiamo parlare di sondaggi ma dei precedenti appuntamenti elettorali. Quali sono le vostre aspettative e perché Emiliano Di Matteo si è candidato? Allora, le aspettative della Lega per la prossima competizione elettorale sono naturalmente alte, anzi direi che un dato di fatto possiamo già anticiparlo, per la prima volta nella storia della nostra regione, la Lega eleggerà sicuramente dei rappresentanti in Consiglio regionale. Mi sembra già questo un primo dato significativo da sottolineare. Naturalmente l'ambizione del partito e di ciascun candidato è quello di poter portare in Consiglio regionale lo spirito, l'impegno, l'entusiasmo, anche un pizzico di competenza con la quale la Lega sta affrontando la sfida del Governo nazionale. Questi elementi sono comuni, naturalmente c'è la volontà di poter segnare una nuova pagina della storia della nostra regione e farlo da protagonisti. Questo è il motivo che ha spinto il nostro partito a formare liste di donne e di uomini competitive e assortite con varie personalità che fossero rappresentative della società civile, del mondo produttivo, del mondo della scuola, del mondo della famiglia. Insomma, un insieme di donne e uomini che fossero uno spaccato di quella società abruzzese che vogliamo rappresentare e a cui vogliamo dare voce. Per quanto riguarda la mia candidatura è un ritorno a un impegno politico attivo. Dopo cinque anni in cui mi sono dedicato alla mia professione e ai miei interessi più personali, ho fatto politica per 15 anni consecutivamente, dal 1999 al 2014, dando sfogo a una passione che coltivavo fin da ragazzo dagli anni del liceo e piano piano questo impegno, attraverso una serie di risultati e di gratificazioni, era diventato di fatto la principale attività della mia vita. L'impegno che ho portato avanti sempre con tutte le forze, le energie, l'entusiasmo che mi derivavano da un lato dal consenso dei cittadini, dall'altro dal senso di responsabilità di chi appunto ha il compito, l'onore, ma anche l'onere di dover rappresentare una comunità. Nel 2014 ho ritenuto opportuno chiudere quell'esperienza per una serie di ragioni oggettive e soggettive, ho continuato naturalmente a interessarmi di politica come ciascun cittadino deve fare per esercitare poi i propri diritti civili, ho incontrato, ho stato facendo il progetto di Matteo Salvini e della Lega, che è evidentemente un progetto completamente diverso da quello che era la Lega Nord di Umberto Bossi, in questo progetto, nei suoi principi ideali, nei suoi principi programmatici, nella voglia di cambiare l'Italia e quindi anche la nostra regione, io mi sono sentito di fatto a casa e quindi ho raccolto volentieri l'invito dei vertici regionali e provinciali, dapprima a impegnarmi come si fa nella Lega, dapprima come semplice sostenitore, poi militante, infine come quadro del partito e ho concluso questo iter di apprendistato con la candidatura in regione, mi è stato chiesto di essere uno dei rappresentanti della nostra provincia e con questo senso di appartenenza che vivo questa sfida come un privilegio e come un onore. Grazie anche per la puntualità, siamo sul filo appunto della sirena. Enrico Marini, lista Abruzzo in Comune, una lista che raccoglie esperienze di amministratori anche che in passato si sono cimentati con la guida delle città, insomma un po' la lista che esprime in qualche modo quella spinta che Legnini ha colto nella sua candidatura, nella sua disponibilità a candidarsi per la presidenza della regione. Lei peraltro non ha amministrato per il centro-sinistra, non appartiene storicamente alla coalizione di centro-sinistra. Qual è il significato appunto della sua candidatura e di questo progetto civico che sostiene la candidatura alla presidenza di Legnini? Buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, io sono medico cardiologo, direttore dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale di Atri. Come amministratore ho amministrato al Comune di Silvi per 10 anni, di cui 5 da vice sindaco, fino al 2014. Sono stato anche candidato sindaco, ahimè perdente nella sfida con Francesco Comignani e onestamente consideravo, insomma per ragioni ovviamente professionali e anche familiari, come dire, un pochino chiusa la mia esperienza di politica attiva. In questi giorni però, avendo ricevuto sicuramente tantissime richieste e offerte di candidature, non ho potuto veramente dire di no a una persona cara, a un amico come Giovanni Legnini, il quale sta portando avanti ovviamente un progetto diverso, perché chi mi considera candidato del centro-sinistra sbaglia, perché non mi ritengo un candidato del centro-sinistra, mi ritengo un candidato a favore di Giovanni Legnini, che sta facendo un progetto ovviamente di un'ampia trasversalità, un progetto richiamato alla responsabilità, alla professionalità di ognuno di noi. Giovanni mi ha chiamato, ritengo, non come politico, perché ormai forse la mia esperienza politica era un pochino anche tramontata, ma sicuramente come professionista, come qualcuno che possa mettere a disposizione la propria professione, la propria professionalità nei confronti dei cittadini e sicuramente nella macchina amministrativa regionale, che ha sicuramente qualcosa da rivedere, soprattutto in tema di sanità. Un grosso tema, molto dibattuto, di cui tutti parlano, però forse con la presenza di qualche professionista della sanità in più, probabilmente si possono fare delle cose migliori, delle cose buone. Credo che ovviamente aver militato in una coalizione di centrodestra faccia parte un po' del passato. I miei elettori sanno che io non sono un uomo di partito da tanti anni, non sono più sicuramente un tesserato e ovviamente il mio elettorato premia sicuramente la persona. Anche il mio slogan elettorale, ho scritto anche in regione, valgono le persone. In questo caso io non sono espressione della forza politica, ma sono un'espressione civica. Mi trovo nella lista degli amministratori, ovviamente anche frutto del mio passato di amministratore della città di Silvi. Bene, grazie Maria, anche re puntualissimo nel rispettare i tempi. Maria, grazie ad Angelo che rappresenta la lista UDC-DC-IDEA, lista di cui si è parlato, inutile dire, molto in questi ultimi giorni a proposito di questa polemica che ha riguardato l'adesione o meno alla coalizione, la presenza o meno nei manifesti. Insomma, intanto ci dica le ultime su qual è la situazione e se lei oggi è nei nostri studi vuol dire che lei è una candidata a tutti gli effetti, non si sente una candidata di Serie B. Le espressioni diciamo un po' più della componente idea, quella che è vicina a Gaetano Quagliariello. Quindi questa va, insomma, sottolineata come posizione. Quagliariello che ha sempre detto, i nostri candidati ci sono e sono in campo. Buonasera, innanzitutto mi presento, sono Maria Grazie ad Angelo, ho 54 anni e sono di Albadiatica. Sono un avvocato e svolgo la mia professione ad Albadiatica ormai da 26 anni, è scritta al foro di Teramo. Io devo ringraziare innanzitutto per l'opportunità di essere qui e spiegare le ragioni della mia candidatura. Devo ringraziare il senatore Quagliariello che mi ha voluto, mi ha chiamato a questa bellissima avventura. Io ho fatto politica da sempre, praticamente, da quando avevo 24-25 anni ho iniziato a fare politica perché per me è stata sempre comunque una passione, così come lo è stata la mia professione e come lo è la mia professione, che faccio veramente con passione e con professionalità, almeno ritengo sicuramente così. Io sono qui e quindi questo significa appunto che come candidata di Movimento IDEA nella coalizione che è sotto lo scudo crociato, quindi sotto la lista della democrazia cristiana, significa che ci siamo e quindi tutto quello che si è detto fino ad oggi ovviamente non ci tocca perché noi siamo nella coalizione di centrodestra. Io sono orgogliosa di far parte di questa coalizione e sono anche pronta a rispondere a quella che è stata la chiamata del senatore Quagliariello, cioè quella di portare in campo tutto quello che può essere, può far parte della mia persona, quindi la mia professionalità e la mia passione. IDEA vuole portare nella coalizione di centrodestra è stato ribadito più volte anche la senatore Marsiglio, quindi che i candidati di questa coalizione saranno presenti al fianco del presidente della regione qualora venga eletto. Cosa dire? Io ritengo che fare politica e quindi entrare a far parte di una coalizione significa anche mettere a disposizione la propria professionalità e la propria passione. Passione che viene dal fatto che da tanto tempo per la mia professione io ascolto costantemente le persone, poi mi interesso di diritto di famiglia e minorile, quindi mi interesso delle problematiche di quel nucleo fondamentale che è la famiglia, che è la prima cellula della società e che va attenzionata, va ascoltata e se ho accettato la candidatura è proprio per portare sul banco della regione le istanze delle persone che chiedono appunto di essere ascoltate. Grazie. Francesco Mastromauro, se non sbaglio, ma questo mi potrà anche correggere, lei è l'unico sindaco che ha dovuto adempiere alla normativa antisindaci dimettendosi per potersi candidare alle elezioni regionali, una norma che tutti dicono di avere in spregio ma che nessuno ha abolito in questi anni. Quindi lei, nonostante il suo mandato terminasse comunque ugualmente quest'anno, ha deciso di candidarsi alla regione. Nel momento in cui però c'era anche in campo una candidatura alla presidenza come quella di Giovanni Legnini. Oggi è espressione di una lista che è un po' più politica anche rispetto a quella di cui parlava e in cui è candidato Marini, una lista che raccoglie l'area di sinistra, quella dei progressisti. Mastromauro, che ruolo ha la sua candidatura di sindaco e allo stesso tempo di esponente di un'area politica all'interno della coalizione di Legnini di cui ci ha già parlato Marini. Sì, intanto buonasera a tutti. Io, oltre che sindaco ormai da dieci anni, esercito la professione di avvocato, come i telespettatori sanno, da quasi trent'anni, e ho messo a disposizione, per rispondere alla domanda del direttore, la mia persona, più che la mia candidatura, già quando mi è stato chiesto di impegnarmi in rappresentanza del mio territorio. Lo feci nel 2009, quando mi venne chiesto di candidarmi a sindaco della mia città, di Giulianova, di una delle città più importanti della regione Abruzzo. L'ho rifatto nel 2014. Perché? Perché io ritengo che bisogna anteporre gli interessi personali e i percorsi personali per rappresentare quel caleidoscopio di sensibilità che albergano nella nostra società e che si connotano di valori. I miei valori di riferimento sono sempre stati quelli progressisti che oggi rappresento. È importante dire questo, direttore, perché a volte si assiste all'impegno politico che viene invece connotato da un secondo fine. Questo è uno dei problemi più grandi della politica. Se non c'è l'idealità, se non c'è l'impegno costante a difesa dei cittadini e in questo caso mio degli ultimi e si fa poi fatica ad avere fiducia nella politica. Io ho deciso quest'anno, alla termine, alla scadenza del mio decimo anno da sindaco, di dare la disponibilità per un progetto che è il progetto che ha connotato i miei due impegni da sindaco. Un progetto civico progressista che già nel 2009, quando nella regione Abruzzo, lo ricorderete, spirava il vento di destra, si vinceva in tutte e quattro le province che passavano da coalizioni di centrosinistra a coalizioni di centrodestra, alla regione, quando Chiodi divenne governatore e a Giulianova mettemmo in campo un progetto civico progressista di cui io ero il depositario del programma. Nel 2014 anche, quando invece, ero stato indicato dal mio partito che ho lasciato due anni fa, il Partito Democratico, come invece il capolista di quella tornata elettorale regionale. Io ho deciso di non accettare, di rimanere, di accettare invece quella sfida per completare il mandato, il secondo mandato a Giulianova. Oggi faccio la stessa cosa, con una prerogativa, quella di Giovanni Legnini, mio amico personale, che ritengo il giusto polo calamite che può mettere insieme le varie anime, ma soprattutto quella progressista. Bene, allora, secondo giro, qui l'ordine cambia, ovviamente. Iniziamo con Maria Grazia D'Angelo. Io voglio entrare subito nei temi di questa campagna elettorale. Un tema che però è strettamente legato al territorio di Teramo, io voglio che subito sia l'attenzione anche dei nostri telespettatori. Quello della ricostruzione, perché si vive una ricostruzione nella ricostruzione in alcuni casi, perché alcuni centri della provincia di Teramo furono colpiti anche dal terremoto del 2009. Ma sul cratere 2016-2017 adesso è il momento di accelerare in qualche modo, perché molte situazioni sono ancora ferme al momento delle scosse. Per le popolazioni e soprattutto per le amministrazioni, perché appunto chi ha fatto l'amministratore tra di voi sa benissimo che a volte i comuni stessi non hanno la forza di poter intervenire su certe dinamiche. Allora, quale ruolo avrà nell'ambito delle sue competenze, che poi non sono esclusive ovviamente sul fronte della ricostruzione, il Consiglio regionale che nasce e quale sarà il vostro impegno sei eletti a favore della ricostruzione delle zone colpite del cratere Teramano in particolare. Maria, grazie ad Angelo. Bene, sicuramente questo è un problema di grande attualità in questo momento e di importanza. Io nella mia professione ne vengo, ovviamente faccio riferimento molto a questa problematica, perché ci sono famiglie che attualmente sono fuori dalle proprie abitazioni e che hanno delle serie difficoltà, hanno un'incertezza, non sanno quando e come rientreranno nelle loro abitazioni, sono nella difficoltà di sapere come andare avanti, se vengono o meno rimborsate le problematiche del costo del canone di locazione per altre abitazioni. Quindi sento tutti i giorni, questa è la mentele, per non parlare poi nelle situazioni di separazione, di divorzio, dove è lì ancora peggio, perché magari le case assegnate dove ci sono minori, magari sono inagibili e quindi c'è una problematica ulteriore, una problematica economica ulteriore. Quindi sicuramente se riusciamo ad essere eletti, quindi a prendere in mano immediatamente questa situazione, accelerare tutte le procedure, perché questa è una parte fondamentale. La ricostruzione significa anche dare nuovamente alle persone che hanno perso i propri beni, hanno perso i propri effetti personali e anche i propri affetti, perché a volte sappiamo che l'ambiente domestico è proprio la culla dei propri affetti e delle proprie situazioni. E quindi ridare a queste persone un po' di serenità è doveroso. Bisogna assolutamente mettere questo prima di ogni altra cosa, perché quando alle famiglie togli quello che è il focolaio domestico viene meno qualunque altra sicurezza, quindi viene meno la voglia di andare avanti, viene meno la motivazione. Quindi sicuramente dare a coloro che oggi sono in questa emergenza, in questa difficoltà, una risposta concreta, una risposta precisa. Quando possono rientrare nelle loro abitazioni? Quando possono di nuovo contare in quella tranquillità che è ovviamente la spinta per andare avanti? Quindi impegno massimo sulla ricostruzione e sull'eliminare ogni disagio in questo senso. Emiliano Di Matteo. Credo che, come lei giustamente ha sottolineato, sarà sicuramente uno dei temi centrali della prossima legislatura della nostra regione. Innanzitutto io voglio sottolineare un dato. Qualche settimana fa facevo un giro per Teramo, insieme ai Teramani. Ho visto dei cantieri, ho chiesto, ho preso informazioni e la cosa che mi è sembrata singolare e inaccettabile è che erano cantieri del sisma del 2009. Nulla o quasi si ha invece riguardo alle scosse sismiche del 2016 e d'inizio 2017 che pure tanti danni hanno prodotto, per fortuna non in termini di costo di vita umana, ma tanti danni hanno prodotto nelle nostre cittadine, a partire appunto dalla città capoluogo da Teramo. Il dato che ancora oggi circa 5.000 cittadini di Teramo vivono di fatto in destinazioni alternative alle proprie abitazioni è da un lato sconfortante e dall'altro raccapricciante addirittura. Non soltanto per quel dramma che dietro i grandi numeri si nasconde in ciascun individuo che è stato sradicato dalla propria abitazione, che ha subito il dramma di doverla abbandonare precipitosamente, è che di fatto non ha certezze, vive, magari accolto in strutture che gli garantiscono un'apparente vita tranquilla e quotidiana, ma viene l'assoluta incertezza di non sapere se, come e quando potrà tornare verso la propria abitazione. Questo è un dato inaccettabile, ripeto, è dentro i grandi numeri, che già così sono dei dati che penso che anche i telespettatori suscitano più di una riflessione, ma si nasconde appunto il dramma delle singole famiglie, dei singoli individui. È evidente che il sistema non ha funzionato, è evidente, lo dicono i dati, ci sono anche dei dati economici sconfortanti, sono stati spesi decine di milioni di euro nella prima accoglienza, lo dice il termine stesso, dovrebbe esaurirsi evidentemente in una prima fase. Ci sono dei danni collaterali che hanno subito queste cittadine, pensiamo anche ai danni per i piccoli commercianti, che hanno perso di fatto moltitudini di propri clienti e hanno visto le loro attività di fatto pregiudicate in alcuni casi definitivamente. Il problema qual è stato, e cominciamo a dirlo con molta chiarezza, non ha funzionato questo sistema. Chi lo ha messo in piedi, chi aveva il compito di gestirlo, di controllare, di fare delle verifiche anche ispettive, perché ricordo a me stesso che ciascun consigliere regionale ha questo potere ispettivo evidentemente, che è implicito nella propria funzione, nell'esercizio della propria funzione, questo sistema non ha funzionato. Quindi è evidente che l'impegno della maggioranza, sicuramente lo sarà della Lega, è quello di riscrivere le regole, dotare di personale l'ufficio della ricostruzione, controllare l'avvio dei cantieri, far sì che ciascuna famiglia possa tornare presso la propria abitazione nel tempo ragionevole. Mastro Mauro. Sì, questo è un grande, uno dei problemi prioritari che ci troveremo ad affrontare. Io ho vissuto personalmente il dramma degli eventi sismici, ero sindaco già nel 2009 quando a Giulianova, purtroppo dopo il sisma di L'Aquila del 6 aprile, noi ospitammo il centro nazionale della protezione civile con Bertolaso, con Alessandrini, e ho vissuto in prima persona le difficoltà enormi che sono di varia natura. Il primo quello umano, delle persone che si trovano lontano dai propri luoghi di lavoro, dai propri affetti, magari tanti con dei lutti in famiglia, cambiare completamente le proprie abitudini. Ho vissuto il dramma meno imponente sotto il punto di vista delle perdite umane, anzi, fortunatamente non ce ne sono state, ma gravissimo per quanto riguarda il distacco dalle proprie abitazioni, dalla propria quotidianità, cioè quello che si è determinato dopo i due eventi tellurici del 2016 e il 2017. Peraltro sulla costa e quindi a Giulianova ci sono tante seconde case degli amici di Teramo, famiglie che si sono trasferite, altre che abbiamo ospitato in strutture ricettive. Ora, al di là della fotografia dell'esistente, è indubbio che il sistema non ha funzionato. Non ha funzionato per il semplice motivo che dopo due anni e mezzo mi risulta che siano state istruite solo 27 pratiche, 27 su migliaia, che quindi questo meccanismo di risposta immediata, perché poi i cittadini vogliono le risposte. Perciò io parlo di concretezza di idee e di un amministratore, è vero che il consigliere regionale è un legislatore, ma poi il consigliere regionale, gli assessori regionali, il governatore devono stare sui territori e devono avere collaboratori che conoscano il territorio. La provincia di Teramo ha bisogno di intervenire con occhi vigili, quindi accelerare gli istruttori, e per accelerare gli istruttori ci vogliono più istruttori. Io so che c'è una penuria di istruttori, se ci sono solo 27 pratiche istruite, evidentemente bisogna mettere più istruttori, più risorse e una regia che poi dialoghi con il commissario straordinario. Enrico Marini, anche Silvi credo ha avuto questa ospitalità molto diffusa. Sì, da 2009 in poi, noi eravamo a fine primo mandato nel 2009, abbiamo ospitato tantissimi amici aquilani, mi ricordo. Però, io, anche in questa problematica, che poi ovviamente non ho seguito nemmeno poi più direttamente, ma insomma, da ex amministratore pubblico, credo che noi abbiamo un grosso problema, che è il problema della burocrazia, perché non è solamente la ricostruzione del Terramano o dell'Aquilano, è un problema italiano. Cioè, noi paghiamo ancora le accise oggi sulla benzina di terremoti di 50 anni fa, di 60 anni fa, quindi è un problema che ancora non abbiamo risolto. E ovviamente tutte le amministrazioni pubbliche ci sbattono il muso, tanto per dirlo in modo molto chiaro. Quando fai l'amministratore pubblico in un comune, se hai un finanziamento da spendere, e mi risulta che per quanto riguarda la ricostruzione non sia un problema di fondi, perché mi pare di capire che i fondi ci sono, il problema è istruire delle pratiche, fare delle gare e spendere questi soldi e realizzare qualcosa. Tutti gli amministratori pubblici, alla fine del primo mandato, spesso molti amministratori pubblici alla fine del primo mandato, non sono riusciti nemmeno ad iniziare quello che hanno previsto nel primo anno di 5 anni di mandato. C'è qualcosa di grosso che non va in questo sistema, mancheranno gli istruttori, ci sono troppi funzionari, troppi burocrati, troppe leggi, sottoleggi, articoli, non lo so qual è il problema. Questo bisogna andarlo a scavare, bisogna capire dove sta il marcio di questo sistema. Sicuramente oggi non possiamo più stare qua a compiangerci al fatto che ci sono tanti amici che ancora stanno fuori casa. Sì, questo lo sappiamo. Noi dobbiamo essere concreti. Io quando stavo in comune, spesso ai miei funzionari facevo l'esempio del mio lavoro, cioè io sono abituato a fare il medico pratico e sono abituato a prendere delle decisioni, delle decisioni rapide, veloci, perché altrimenti il paziente muore. Io spesso portavo questo esempio in comune, cioè se noi lavorassimo in ospedale, come si lavora negli enti pubblici, probabilmente faremmo decine di morti. Ora, bisogna capire perché la macchina amministrativa è così lenta, così farraginosa, così che non dà risposte, perché a fronte di finanziamenti esistenti non riusciamo a concretizzare poi negli atti i progetti, le concessioni, le gare. È tutto un sistema così lento, farraginoso che il cittadino ormai si è veramente stufato. Io credo che continuare ancora ad oggi, già parlare di ricostruzione, ma a questa povera gente, veramente c'è gente che non ne può proprio più. Dobbiamo parlare di soluzioni, dobbiamo parlare di trovare il modo per riconsegnare ai cittadini il progetto. Ecco te lo qua, te l'abbiamo approvato per incominciare a ricostruire, perché altrimenti così non diamo risposta. Grazie, grazie Marini. Noi facciamo la prima pausa, torniamo tra poco per un altro giro di domande. Linea alla regia. Rieccoci in studio, entriamo su un altro dei temi caldi del confronto elettorale che riguarda la provincia di Teramo, che esprime i candidati presenti nei nostri studio. Ovviamente i temi sono di portata regionale, ma ce n'è uno in particolare che proprio in questo territorio ha un peso di un certo rilievo. vuole dire la difesa del territorio, frane calamità naturali. Abbiamo parlato del terremoto che ovviamente è una situazione un po' più imprevedibile, ma rispetto all'assetto della salvaguardia del territorio, la provincia di Teramo ha subito negli anni in maniera vistosa molte ferite. Tra queste c'è anche la questione dell'acqua, della sicurezza dell'acqua sul Gran Sasso. Insomma, una serie di temi che saranno sicuramente presenti nella campagna elettorale, su cui vi chiedo anche di esporre le vostre proposte e i vostri ragionamenti, in particolare appunto rispetto alla difesa di un territorio alla merced dei cambiamenti climatici, ma anche dei problemi determinati dall'uomo. Provincia di Teramo è un po' come tutto l'Abruzzo una situazione che vive una situazione di grande fragilità. Mastro Mauro, quali sono le vostre proposte? Intanto la regione Abruzzo ha 305 comuni e io registro, c'è uno studio dell'ISPRE in questo senso, come 304 su 305 hanno problemi gravi di dissesto idrogeologico. Io come sindaco me ne sono occupato in questi dieci anni, abbiamo lanciato il grido d'allarme ai governi che si sono succeduti, quindi qui non è una questione politica, ma è una questione pratica di interventi. Direttore, ci vogliono più risorse, è inutile affermare dei principi se poi tu a quei principi non dai carburante affinché questi principi si traducono in azioni concrete per intervenire e risolvere. I comuni da soli possono fare, ma non possono fare tutto. Ci vuole un piano importante che investa risorse per intervenire. Poi ci sono gli strumenti urbanistici. che invece sono di competenza dei comuni. Ma Giulianova, io sono stato il sindaco sotto la cui consigliatura si è realizzato un nuovo piano regolatore che è vigente dal marzo 2013 che ha avuto come principi ispiratori proprio quelli della difesa del territorio. Si può fare tanto perché quando tu non dai capacità edificatoria a zone agricole che sono fondamentali nell'assetto idrogeologico oppure quando tu intervieni sulle zone più critiche facendo interventi di sostegno come nelle zone collinari come pure abbiamo fatto già fai tanto. Poi c'è un problema invece che riguarda una competenza extracomunale ad esempio in provincia di Teramo ci sono i corsi acque i fiumi che debbono essere oggetto dei contratti di fiume in primo luogo che poi rispondono sia al problema di cui lei parlava del dissesto ma anche quello della qualità delle acque perché io da sindaco di un comune costiero so bene che tu puoi lavorare tanto per ottenere i riconoscimenti ambientali li abbiamo ottenuti tutti ma se poi non intervieni alla fonte cioè a monte da dove vengono giù verso la foce dei fiumi e noi ne abbiamo tanti nella provincia di Teramo che poi fanno da collettore di tutti quegli scarichi abusivi che dalle utenze domestiche piuttosto che da quelle industriali vanno a fire nei fiumi sei un po' impotente c'è un contratto di fiume sul Tordino che è pronto che deve essere attuato e ci sono altri contratti di fiumi sugli altri fiumi che devono essere a cui bisogna dare gambe c'è tanto da fare bisogna però agire non basta chiacchiere fatti concreti Maria Grazia D'Angelo bene il territorio della provincia di Ramana ma come tutto il territorio abruzzese ovviamente è un bellissimo territorio ci sono delle zone veramente belle e vanno preservate oggi noi a volte non pensiamo quando vogliamo in qualche modo nelle amministrazioni comunali che venga una zona trasformata piuttosto che un'altra magari non pensiamo a quello che magari la trasformazione può portare quale può essere la conseguenza ma questa mentalità a mio avviso va cambiata sicuramente ci vuole un impulso fortissimo da parte della regione ci vuole un impulso da parte della regione una grande collaborazione con i vari comuni affinché questo territorio venga preservato affinché si pensi prima a quello che è necessario fare per preservare il territorio e non dopo magari che sia successa una calamità naturale perché dopo siamo tutti bravi a dire ma si doveva ma questo va affrontato prima non deve succedere noi abbiamo delle bellissime coste abbiamo delle bellissime zone interne ma queste vanno tutelate dei bellissimi fiumi giustamente vanno incentivati i contratti di fiume vanno sicuramente protette le nostre coste perché io poi al Bariatrica per me io sono nata dal Bariatrica ed è il paese più bello del mondo lo dico sempre perché ha una spiaggia aveva una spiaggia grandissima adesso si è un po' ridotta la dobbiamo però salvaguardare così come tutta la costa terramana che è meravigliosa quindi intervenire ovviamente prevenire quello che poi no potrà succedere e questo è un impegno forte un impegno che secondo me deve essere messo sicuramente come una delle priorità della prossima legislatura io però presterei anche attenzione alla prevenzione e la prevenzione deve partire dall'insegnamento ai nostri ragazzi dell'amore che devono avere per il loro territorio questo è fondamentale io mi trovo molte volte a fare animatrice e catechista negli oratori e lo diciamo sempre amate il vostro territorio perché la natura noi l'abbiamo trovata e siamo qui in questa bellissima terra dobbiamo amare il nostro territorio e dobbiamo fare tutto quello che è possibile per prevenire delle catastrofi insomma delle calamità quindi attenzione a tutto quello che si può fare per prevenire e per preservare il nostro territorio per valorizzarlo per mantenerlo e valorizzarlo affinché possa anche essere una risorsa in termini di turismo no? perché noi abbiamo delle zone bellissime se vanno preservate salvaguardate sicuramente possono essere una grande risorsa e quindi dobbiamo impegnarci in maniera radicale su questo Igo Manini sì io ho fatto l'assessore dei lavori pubblici dieci anni al comune di Silvi e ho affrontato più volte questo tipo di problema non credo che oggi si possa parlare più ormai di abusivismo edilizio eccetera perché ormai i piani i vincoli sono talmente tanti che è letteralmente difficile sfuggire a questo per fortuna io invece la metto su un'altra questione che si chiama manutenzione dei territori se lasciamo ai comuni la manutenzione dei territori per esempio parlo dei centri storici noi abbiamo dei centri storici dove oggi con i vincoli che ci sono oggi i piani paesaggisti e tutto quanto nessuno andrebbe a edificare e però abbiamo dei centri storici che vanno manutenuti e valorizzati e ovviamente tutte queste cose non possono essere lasciate ai comuni faccio un esempio a Silvi abbiamo 7 chilometri di nazionale adriatica che è proprietà del comune cosa quantomeno assurda e ridicola perché un comune come Silvi non si potrà mai permettere di spendere centinaia di migliaia di euro ogni anno per manutenere la nazionale adriatica e ridurre anche il rischio di coloro che ci transitano quindi bisogna che gli entri gli enti sovracomunali sicuramente la regione in questo caso anche perché ormai le province sono state abbastanza svuotate benché anche su molte strade la competenza sia anche provinciale ma l'ente regione che come dire è un pochino la mamma di tutti questi comuni si debba prendere in carico questa problematica della manutenzione dei territori perché se i territori se le strade i fiumi vengono sottoposti ad una manutenzione periodica io mi ricordo da assessore dovevo litigare con la provincia per la pulizia dell'alveo del torrente piomba perché quello non c'è i soldi quell'altro non lo può fare perché è competenza il comune spesso si dedica sulle competenze poi quando succede il disastro corrono tutti quanti cioè dobbiamo essere anche in questo caso più pratici dobbiamo capire chi deve fare cosa e sicuramente la regione che poi è quella che ha sicuramente un bilancio più per quanto risicato ma sicuramente più capiente di quelli che sono i bilanci di questi poveri comuni deve farsi carico della manutenzione del territorio perché un comune da solo non riesce assolutamente a soddisfare i fabbisogni del territorio e poi dopo succedono i disastri ma d'altronde se non si prevengono prima se non si fa la manutenzione del territorio i disastri continueranno a succedere e poi dopo si rintracciano si rincorrono le colpe sempre le solite cose poi nessuno è mai colpevole è anche per questo che i cittadini sono abbastanza stufi di questa politica così inconcludente direi quindi andare in regione oggi può voler dire riprendere in mano questa problematica e sicuramente a questo malato gli si può dare una terapia giusta grazie Emiliano Di Matteo allora partiamo da alcuni presupposti nel nostro territorio parlo ovviamente di un territorio che abbraccia l'intera regione non soltanto la nostra provincia è un territorio tanto bello quanto fragile presenta delle bellezze paesegistiche anche dai colleghi candidati che hanno pochi uguali ma altrettanti punti di fragilità e di pericolo che vanno dai monti e quindi dal distesto idrogeologico fino alla costa al problema dell'erosione sicuramente tutti quanti noi da amministratori abbiamo già affrontato questi problemi l'hanno detto sia Francesco Mastromauro che Enrico Marini anch'io quando diventai sindaco di Ancarano avevo il centro storico che stava praticamente franando e ricordo bene come tra l'altro il comune aveva dei fondi stanziati e non spesi tanto che per me fu abbastanza semplice risolvere il problema perché bastò semplicemente utilizzare quelle risorse che addirittura erano a rischio di revoca da parte della regione Abruzzo per risolvere quel problema e salvare di fatto il nostro centro storico da un pericolo di grave dissesto da cui era affetto detto questo però quindi io potrei tranquillamente ripetere quanto detto già dai colleghi circa il problema Maria Grazia parlava dell'erosione che sicuramente è un problema che affligge soprattutto il versante nord della nostra costa e che purtroppo con interventi che sono puntuali e non sistematici finisce per essere spostato di zona in zona e di creare anche zone di momenti di grande conflittualità tra le amministrazioni comunali perché è evidente che se tu un problema da nord lo trasferisci a sud forse la zona che beneficia dell'intervento è felice ma quella che è invece di prossimità si comincia a preoccupare perché sa bene che l'erosione la stai semplicemente traslando e non risolvendo quindi io faccio mie le parole dette da loro perché sicuramente c'è la buona volontà e sulla loro onestà intellettuale posso garantire io che sono pure candidato concorrente rispetto a loro sfrutto però il minuto e mezzo che mi è rimasto direttore per fare un po' una disamina anche più di carattere politico che forse può essere anche utile ai telespettatori nel momento in cui dovranno andare a scegliere a chi affidare le sorti della propria regione nelle parole dei colleghi che io ho ascoltato con molta attenzione però ho letto un denominatore comune si sta parlando spesso di ritardi lo si è detto in qualche modo parlando accennando i temi della sanità lo si è detto in modo unanime per la ricostruzione lo si è in qualche modo detto anche per quanto riguarda l'affrontare problemi come quello del dissesto dello geologico piuttosto dell'erosione allora l'impegno che la Lega prende e che io prendo è far sì che questi ritardi non continuino a protrarsi perché una competizione elettorale evidentemente prevede una sfida una competizione come l'abbiamo definita prima tra chi ha governato e chi si propone di poter governare in alternativa a chi lo ha già fatto è evidente che anche chi oggi in qualche modo è insieme al Partito Democratico è stato detto in modo molto elegante e non potrebbe essere così dato anche il livello culturale degli amici con cui condivido questo spazio ma è stato detto che la Regione Abruzzo soprattutto negli ultimi cinque anni ha accumulato una serie di ritardi ascrivibili alla gestione del Partito Democratico che io mi auguro che chiunque vada a governare la Regione nei prossimi cinque anni io mi auguro che possa farlo la Lega insieme al Presidente Marsilio non deve continuare a portare avanti perché tutto ciò andrebbe a danno degli abruzzesi che invece sono il bene primario che chi governa la Regione dovrebbe avere a mente in ogni giorno della legislatura grazie le vostre risposte mi hanno suggerito un'ulteriore domanda sempre attinente a questo tema che abbiamo visto ovviamente la mia domanda era di quel tipo dal punto di vista difensivo cioè come difendere il nostro territorio così fragile l'altro spunto su cui vi vorrei sentir confrontare è la possibilità invece di guardare in positivo alle risorse che questo territorio ci offre per lo sviluppo anche occupazionale dell'Abruzzo turismo agricoltura sostenibilità ecco da questo punto di vista assieme all'industria sul tema lavoro quanto può essere di legato al territorio che può fare un salto di qualità anche nei numeri rispetto alle difficoltà che vivono gli abruzzesi per trovare lavoro per poterlo conservare per poter dare un futuro ai propri figli quanto c'è di ancora legato a questa terra nelle vostre idee nelle vostre strategie nei vostri programmi per il lavoro su questo vorrei sentire per primo come da sorteggio ovviamente Enrico Marini sicuramente questo è un territorio che può offrire ancora molto può offrire molto sia da un punto di vista di una industrializzazione che già c'è e può sicuramente migliorare perché la regione può attrarre investimenti e deve continuare a farlo come già è successo in passato da un punto di vista ambientale ovviamente anche lì sfruttiamo le risorse che abbiamo io ricordo con Emiliano di Matteo abbiamo vissuto un'esperienza condivisa congiunta quando è stato creato il parco Marino del Cerrano una come dire una creazione una creatura che abbiamo voluto fortemente e che è stata in questi anni motore di sviluppo per tante attività relative al parco e anche collaterali del parco che hanno creato sicuramente interesse occupazione cultura momenti ricreativi scienza biologia cioè tante attività che intorno ad un piccolo motore se vogliamo come quella dell'area marina protetta del Cerrano si sono create un'esperienza che è diventata poi un'esperienza pilota in Italia perché nel giro di poco tempo il parco del Cerrano era diventato anche a livello ministeriale un parco simbolo la seconda amministrazione secondo in Italia per modello gestionale queste sono le esperienze che possono essere ripetute perché queste sono le esperienze che valorizzano il territorio e prevengono l'inquinamento prevengono le trivelle prevengono in questi casi anche la disoccupazione perché quello che possiamo sfruttare in termini naturalistici da un punto di vista del territorio lo dobbiamo fare come credo che non ci dobbiamo inventare niente come fanno tanti altri in tutto il mondo quando qualcuno di noi va all'estero si rende conto di quanto gli altri siano bravi a sfruttare veramente il poco quasi nulla che hanno noi abbiamo tantissimo quindi impegnarsi nello sfruttare questo tantissimo che abbiamo può diventare veramente un grosso volano per il lavoro della regione Abruzzo Mastro Mauro Sì intanto sorprende che Emiliano Di Matteo stigmatizzi l'operato della giunta uscente ricordo ad Emiliano Di Matteo ma non serve che lo faccia io che Emiliano è stato parte integrante della maggioranza che per cinque anni e mezzo ha supportato il governatore Gianni Chiodi questi ritardi se ci sono derivano non dagli ultimi cinque anni ma almeno dagli ultimi dieci quindici se non vent'anni qui diciamo che non ne facciamo una questione politica ma di idee concretezza risposte la domanda che lei fa direttore è molto importante ad esempio si potrebbe parlare di tanto io dico che la regione Abruzzo ha nel turismo una fonte poco valorizzata e la provincia di Teramo all'interno del comparto turistico ricordiamolo genera il più del 50% delle presenze turistiche dell'intera regione Abruzzo cosa manca manca un marchio d'area che la identifichi e valorizzi un po' come avviene in altre parti d'italia che metta quindi poi a sistema il turismo balneare quello religioso molto importante quello enogastronomico e quello montano dei parchi e soprattutto una cosa noi riusciamo nella provincia di Teramo mi fermo qui nella provincia a dare grosse risposte in termini di presenze e di arrivi ma se non incidiamo sulla ricettività e quindi non diamo incentivi affinché gli operatori turistici che dobbiamo ringraziare per tutto quello che fanno non abbiano la possibilità di creare nuove strutture ricettive poi facciamo molta difficoltà a ampliare l'offerta turistica a riempire ancora di più ad avere più presenza e più turisti e quindi a generare nuova economia e nuovi posti di lavoro su questo bisogna puntare molto così come sulle infrastrutture per esempio io penso al completamento della Teramo Mare in questi dieci anni ho dato il mio contributo forte in termini sia di progettazione che con l'ultima giunta bisogna riconoscere che con gli 80 milioni di euro messi a disposizione dalla giunta uscente ci sono anche i finanziamenti adesso bisogna completarlo il quattro tratto della superstrada che collega la Roma con l'Adriatico perché questo non è solo un volano anche per il turismo ma per la conoscenza dei nostri territori dalla nostra costa e anche per la zona industriale sulla zona industriale bisogna fare in termini ampi bisogna puntare sulle zone di quelle speciali che possono dare nuovo volano alla economia e al lavoro sul quale sicuramente è un tema del quale dovremo parlare in questa trasmissione e in questa campagna elettorale Emiliano Di Matteo la domanda faceva riferimento al lavoro e tutto ciò che la regione Abruzzo può fare evidentemente per incentivarlo allora dobbiamo dire ai nostri amici telespettatori che in realtà la regione Abruzzo ha almeno tre grandi assi di sviluppo che sono poi tre grandi assi attraverso i quali arrivano sul nostro territorio i fondi europei sono quello del fondo sociale del PSR per quanto riguarda l'agricoltura e del FESOR per quanto riguarda lo sviluppo regionale quindi le infrastrutture quindi è evidente che attraverso l'incentivazione di questi fondi ma soprattutto attraverso la capacità di trasformare quei fondi in progetti in opere in azioni concrete passa la possibilità di sviluppo ed è evidente che una regione che crei quelle infrastrutture che ancora non ci sono che vanno completate è una regione che permetta al mondo agricolo di poter attraverso i bandi ottenere quelle risorse quegli incentivi per poter fare anche innovazione e magari promuovere le tante eccellenze non gastronomiche presenti sul nostro territorio una regione che attraverso il Fondo Sociale Europeo dia al tempo stesso incentivo per la creazione di nuovi posti di lavoro e sostegno alle imprese è una regione che fa bene il proprio compito è evidente che tutto questo andrà fatto come in passato magari meglio che in passato con ancora più impegno con intensità da parte del Consiglio regionale che emana le leggi che approva le leggi che scrive le regole attraverso l'opera della Giunta che è l'organo di gestione di una regione che attraverso le competenze le deleghe che il Presidente assegna ai propri assessori deve appunto tradurre in azioni concrete l'attività di governo e fino a qui siamo diciamo non diciamo ancora una volta nulla di nuovo io sono contento insomma che Francesco faccia dei richiami anche di natura politica per questo è una tribuna elettorale voglio di anche se noi rischiamo anche di annoiare poi il direttore ci bacchetta perché facciamo scendere gli ascolti di Rete 8 insomma invece i telespettatori vanno evidentemente tenuti ben attenti rispetto al fatto che questa è una competizione elettorale Francesco ha fatto un richiamo giusto al mio precedente impegno in regione io sono stato un componente dell'amministrazione Chiodi potrei dire e vado oltre che quell'amministrazione dopo due mesi dell'insediamento ha conosciuto la tragedia dell'aquila di quel terremoto che evidentemente ha reso difficile l'azione di governo potrei dire tante altre cose dico una cosa molto semplice invece direttore quell'amministrazione ha avuto il coraggio però di proporsi ai cittadini di mettere di fronte al loro giudizio l'operato quell'operato non è stato apprezzato il centro-resta ha perso le elezioni io personalmente scelsi di non ricandidarmi quindi probabilmente non devo aggiungere molto altro e quel giudizio per me è insindacabile sempre noto e vorrei sottolineare che invece che chi ha governato la regione negli ultimi 5 anni ha pensato bene di andare a fare altro prima della scadenza del mandato tenendo in ostaggio questa regione per circa un anno e quindi tutto ciò che abbiamo detto è stato aggravato da questo ritardo che la forza politica che diceva che la regione era facile bella da governare evidentemente oggi è stato costretto a nascondersi all'interno di sette liste civiche che fatte da ottimi candidati ma che sono la prova plastica di come il partito democratico il suo ex presidente hanno evidentemente mal governato per cui Giovanni Legnini e i loro candidati devono proporre un progetto nuovo perché quello che c'è stato fino ad oggi evidentemente non ha soddisfatto loro stessi prima ancora che li abruzzesi Maria Grazia D'Angelo Allora io vorrei tornare a quella che è la domanda cioè come sviluppare occasioni e possibilità di lavoro guardando al territorio e alla tutela al territorio non mi inserisco ovviamente nel discorso delle vecchie e delle passate legislature perché ovviamente io mi propongo come nuovo elemento e quindi devo necessariamente dire quello che secondo me si potrebbe fare io ho ampiamente condiviso e sottoscritto il programma del centro-destra e quindi del candidato presidente Marsilio perché a mio avviso lì sono riportate tante di quelle progettualità che io ritengo valide e che ho sempre auspicato fossero lì e cioè la possibilità di incentivare anche attraverso il reperimento di fondi europei perché ce ne sono quelle che sono le nuove possibilità di lavoro soprattutto per i giovani perché la nostra regione deve ripartire dai giovani quindi quell'incentivazione delle start-up che possono formarsi per sviluppare un turismo sostenibile ad esempio un'agricoltura sostenibile una cultura del territorio sostenibile ci sono tanti giovani che potrebbero ad esempio fare del turismo montano collinare e marittimo veramente grandi cose e penso a imprese che possano sviluppare l'agricoltura incentivare valorizzare i prodotti i nostri prodotti tipici e quindi attraverso una riscoperta di quelle metodi di cultura sostenibile ad esempio penso perché no al sviluppare nuove società nuove imprese sempre incentivando i giovani che portino ad esempio ad un turismo sostenibile e per turismo sostenibile valorizzare il turismo anche per le persone diversamente abili che potrebbero per esempio accedere a sport acquatici a sport che si possono fare al mare e questo non farebbe altro che sviluppare sia il settore del sociale perché appunto queste persone diversamente abili si dà la possibilità invece di poter praticare degli sport che altrimenti insomma impensabili queste sono delle belle cose che vanno a sviluppare incentivare a dare maggior risalto alle nostre attività turistiche e così come posso penso alla scoperta alla cultura alla riscoperta dei nostri territori incentivare i giovani a mettere su delle imprese delle start up finalizzate a questo questo sicuramente è una cosa che il nostro programma prevede e io mi impegnerò personalmente a portare avanti bene abbiamo terminato anche questo giro di domande tra poco dopo l'ultima interruzione pubblicitaria andiamo a chiudere con gli ultimi due round di risposte dunque non cambiate canale ci vediamo tra pochissimo con la parte conclusiva di questa tribuna elettorale bene siamo tornati in studio per il confronto tra quattro candidati delle liste circoscrizionali di Teramo alle nostre elezioni regionale è un tema ovviamente cruciale in questa campagna elettorale perché è cruciale nel bilancio stesso della regione con la sua incidenza è quello della sanità si è parlato molto in questi anni in queste settimane anche di campagne elettorali di ospedali di situazioni legate appunto all'offerta dei servizi sanitari a livello ospedaliero ma io vorrei che non si dimenticasse vi do questo stimolo anche per le risposte anche il territorio vale a dire una volta che ora la regione è rientrata da un piano di rientro appunto è rientrata una situazione di disavanzo sanitario può tornare a pianificare pienamente senza grandissimi condizionamenti dal governo centrale e probabilmente tener conto anche della prossimità dei servizi rispetto ai bisogni delle persone in particolare quelle che soffrono non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista sociale e spesso le due cose sono intersecate probabilmente è una priorità di cui si discuterà molto nei prossimi cinque anni ecco su questo punto quali sono le vostre proposte e quali sono appunto i punti ispiratori del vostro programma elettorale iniziamo con Emiliano Di Matteo Lega ma io innanzitutto vorrei far capire agli spettatori che nella mia precedente esperienza in regione in realtà non mi sono mai potuto occupare di sanità per un motivo molto semplice perché era una materia espropriata al Consiglio regionale l'Abruzzo era una regione commissariata non era l'unica ma era una di quelle che era stata commissariata dal governo proprio perché i conti della sanità della nostra regione erano così negativi che di fatto al Consiglio regionale fu impedito per l'intera legislatura di occuparsi di sanità perché c'era un commissario governativo che coincideva nella figura del Presidente Chiodi ma che di fatto come funzionario dello Stato doveva occuparsi di sanità in quei cinque anni evidentemente un'opera attenta di revisione dei costi e di scelte anche dolorose sul territorio ha permesso di uscire fuori da quella situazione di grave penalizzazione per la nostra collettività e anche di imbarazzo diciamoci la verità perché eravamo una delle cosiddette regioni canaglia così definite nei mezzi di informazione l'ultimo Consiglio regionale ha potuto tornare a pianificare attraverso il piano sanitario regionale e la sanità sul nostro territorio cioè i miei colleghi consiglieri hanno avuto una fortuna che io non ho conosciuto di potersi occupare della nostra sanità regionale come l'hanno fatto dovranno giudicarlo evidentemente i cittadini abruzzesi quindi io se no sembro non vorrei dare l'impressione di quello che vuole per forza accendere fuochi di polemica da politico terramano però dico una cosa e lo dico di fronte a una telecamera senza tema di smentita che sicuramente non è stata la sanità teramana ad aver provocato quella situazione di dissesto dei conti che aveva portato al commissariamento della nostra regione perché lo posso dire senza tema di smentire perché a Teramo il numero dei presidi ospedalieri l'assenza di cliniche private convenzionate ha fatto sì che evidentemente non siamo stati noi a essere protagonisti di un'offerta sanitaria eccedente sovrabbondante rispetto alle reali esigenze di un territorio noi abbiamo quattro ospedali che devono essere tutti e quattro difesi ma non nell'interesse tanto della struttura in sé o di chi ci lavora che evidentemente però merita pure tutta la nostra attenzione ma dei cittadini che in quegli ospedali vanno a curarsi poi ci sono delle tematiche avanzate sull'opportunità di costruire un ospedale unico di costruirne due questo vedremo quando sarà il momento e quando queste strutture saranno pronte per essere realizzate ma noi abbiamo un dovere tutti noi che saremo eletti a partire o saranno eletti a partire dal 10 di febbraio di garantire il diritto alla salute ai cittadini abruzzesi dal 10 di febbraio migliorando il funzionamento delle nostre strutture mettendo in condizioni i medici e il personale paramedico di lavorare che molto spesso sono costretti ad accettare condizioni che sono discriminatorie e mortificanti della loro professionalità loro lo fanno perché evidentemente lo spirito deontologico gli permette di andare oltre ma non possiamo abusare della loro generosità della loro abnegazione e del loro attaccamento al lavoro la regione evidentemente ha il compito di far funzionare la nostra sanità in provincia mettendo tutti e quattro i presidi ospedali in condizioni diverse rispetto al passato e puntando tantissimo sulla medicina sul territorio che molto spesso viene trascurata ma che è fondamentale in una provincia come la nostra che avendo solo quattro ospedali evidentemente ha bisogno anche di quello Marini lei è un operatore sanitario quindi conosce da vicino anche la situazione dell'evoluzione negli ultimi anni beh su questo argomento diciamo che gioco in casa però sicuramente di cose da fare ce ne sono tante sì io lascerei perdere i discorsi dei mega ospedali perché sembra sempre una cosa utopistica che poi alla fine la gente non ci crede mai insomma è inutile promettere cattedrali nel deserto che non arriveranno mai io credo che invece si debba investire in attrezzature e uomini gli ospedali ce li abbiamo dobbiamo solo farli funzionare bene abbiamo la possibilità oggi fondamentalmente abbiamo in Italia in Abruzzo anche tante eccellenze abbiamo le cliniche universitarie abbiamo i grandi piccoli i medi ospedali ce l'abbiamo di tutti i tipi il problema è dotarli di attrezzature e di uomini questa è l'unica cosa io invece di investire milioni e milioni di euro per costruire cattedrali nel deserto io investirei milioni e milioni di euro in uomini tecnologie e attrezzature oggi il problema del cittadino è reale non quello di trovare l'eccellenza per andarsi ad operare perché quella ce l'abbiamo e dobbiamo garantirla e magari anche incentivarla il problema del cittadino è uscire dallo studio del medico di base con un'impegnativa rossa per andare a fare una banale ecografia che potrebbe fare addirittura nello studio del medico di base tant'è vero che molti si sono organizzati poi in termini privatistici per fare questo ma questo povero cittadino con questa cartuccia rossa in mano incomincia a vagabondare tra un cup e l'altro un convenzionato non convenzionato che alla fine molti oggi ci rinunciano vanno direttamente al privato prendono 100 euro e si fanno l'ecografia questo è il primo reale problema da risolvere non può essere non ci può essere la stessa diagnostica per il paziente ricoverato che magari fa un'ecografia dopo una settimana e per il paziente del territorio che fa un'ecografia non si sa dopo sei mesi bisogna separare le diagnostiche abbiamo la possibilità di farla è ovvio che io terrei a sottolineare il fatto che in sanità per prendere questo tipo di decisioni c'è bisogno di un po' più di collegialità e di coinvolgimento dei professionisti che ci operano in sanità perché purtroppo anche la sanità è un tema molto dedicato io ho assistito a tanti confronti televisivi dove pure io andavo quando ancora ero amministratore spesso in questi consessi diciamo anche un sacco di cose ovvie ma anche un sacco di cose che non stanno nel cielo o in terra per cui il cittadino oggi è completamente disorientato dobbiamo oggi si parla l'abbattimento delle liste di attesa benissimo ma l'abbattimento delle liste di attesa si può fare si deve fare ma dobbiamo sapere come farlo mettiamo tanta carne al fuoco però purtroppo il cittadino ancora oggi è disorientato e chi può fa sempre ricorso alla sanità privata per risolvere il problema e questo per la sanità pubblica che di livello eccellente è un grosso una cosa che non va assolutamente bene Maria Grazia D'Angelo problema sanità problemi primari ce ne sono tanti la sanità anche questo è uno dei problemi primari la sanità va potenziata non si può non si può pensare e sono d'accordo su quello che diceva Emiliano di sopprimere ospedali o strutture publie no quelle vanno potenziate vanno sicuramente rese efficienti e il cittadino deve poter avere una risposta immediata quando si reca verso un ospedale quello che è importante e su questo io sono fermamente convinta è il potenziamento anche della medicina sul territorio come appunto diceva Emiliano perché è fondamentale io ricordo ho avuto un mio zio medico era un medico di base ma noi scherzavamo perché dicevamo che quando entravamo da lui iniziava a visitarci dal piede per arrivare alla testa significava che aveva una cura eccessiva dovuta ma proprio una passione verso il paziente e dobbiamo tornare a fare in modo che i medici di base che sono importantissimi per il territorio abbiano la possibilità di lavorare bene e di dare risposte al cittadino quindi la medicina sul territorio è fondamentale perché il cittadino si deve sentire curato già sul suo territorio senza che poi si deve spostare negli ospedali vicini dove a volte neanche riesce ad avere una risposta e questo è capitato per cui trasferirsi all'ospedale di Teramo o quelle corse incredibili da un ospedale a un altro noi dobbiamo fare in modo che la sanità possa dare risposte concrete sia nelle strutture degli ospedali che devono essere potenziati che devono essere messe in grado le professionalità altissime che ci sono nei nostri ospedali devono essere assolutamente valorizzate e l'ospedale deve essere un posto dove si arriva e si ha una risposta concreta le liste d'attesa vanno eliminate si deve trovare il modo assolutamente perché non è giusto che chi non può rivolgersi ad un medico un professionista un medico privato debba aspettare mesi e mesi delle liste lunghissime questo non è possibile si può pensare anche di creare delle strutture periferiche proprio sul territorio al fine di fare una prima diagnosi questo si può anche valutare ma si deve sicuramente pensare di dare delle risposte concrete e di riportare il cittadino al centro dell'intervento su queste problematiche perché se noi pensiamo alle necessità del cittadino a quali sono i suoi disagi e come poterli risolvere allora sicuramente possiamo fare un buon lavoro se noi pensiamo invece di fare tagli per delle questioni burocratiche allora non abbiamo fatto un buon servizio quello che deve essere al centro dell'attività del legislatore regionale è il bene del cittadino e capire come poterlo fare Mastro Mauro io devo dire una cosa oggi sto ascoltando il replicarsi di un problema che è come un mantra che in questi dieci anni ho ascoltato gli esimi miei colleghi candidati propongono la diagnosi cioè enucleano i problemi della sanità ma non prospettano la cura la terapia la soluzione dei problemi con tutto il rispetto io ho fatto il sindaco per dieci anni e come sapete per dieci anni sono stato il portavoce degli altri sindaci del centro-sinistra della provincia di Teramo anche sulla questione della sanità noi abbiamo sempre sostenuto cosa? sì i problemi li conosciamo non ci sono le eccellenze nelle cure cure per gli acuti nella sanità pubblica teramana c'è una lietivitazione costante della mobilità passiva cioè cittadini delle risorse che la sanità nel Teramano e cioè noi utenti diamo paghiamo alla sanità delle altre regioni dove dobbiamo andare per curare noi e i nostri familiari terzo liste di attesa che arrivano anche ad un anno e anche più per la diagnostica questi sono i problemi poi c'è la medicina del territorio la medicina dell'emergenza ma qual è la cura? perché altrimenti noi ruotiamo intorno a quello che è successo negli ultimi dieci anni quando la mobilità passiva è arrivata a 60 milioni di euro nell'ultimo anno ma è partita da molto meno quindi si è sempre detto tuteliamo tuteliamo allora la costituzione repubblicana la conosciamo tutti il diritto alla salute è previsto dalla costituzione repubblicana ora intanto noi tagli siamo tutti d'accordo è vero che c'è stato il problema del rientro dal commissariamento e siamo rientrati ma bisogna ottimizzare le risorse bisogna ottimizzare le risorse e bisogna utilizzare una opportunità che ha solo la sanità nel terramano io vi dico quello che noi abbiamo chiesto è che io mi farò portavoce in regione in provincia di Teramo noi non abbiamo una presenza importante del primato fortunatamente che invece c'è a Chieti e Pescara io non c'ho nulla contro il privato anche i franzi io faccio l'avvocato ci mancherebbe ma in provincia di Teramo noi abbiamo un'opportunità quella di concentrare sulle eccellenze sulle risposte per le acuzie quindi ottimizzare la presenza dei poli a due magari e dare risposte invece che cosa alla riabilitazione perché sappiate e voi che mi ascoltate lo sapete tanti nostri familiari vanno fuori regioni strutture private a Porto Potenza Picena al Santo Stefano per curarsi quelle risorse devono tornare nel terramano nelle strutture pubbliche e per la lungodegenza la popolazione e va sempre verso un'aspettativa di vita più importante dobbiamo puntare su questo si può fare sì ma basta con le enunciazioni andiamo alle risposte altrimenti non facciamo un buon servizio al nostro territorio bene siamo all'ultima domanda l'ultima risposta che io vi chiedo è di ordine più politico così come avevamo iniziato perché abbiamo ben inquadrato io penso in questo giro i temi del confronto i temi concreti su cui poi è giusto che ci si confronti però adesso voglio anche qualche un po' qualche scintilla in qualche modo su questa campagna elettorale i toni di questa campagna elettorale oltre che i temi e soprattutto il confronto tra i candidati presidenti dei vostri schieramenti come si è articolato nell'ambito di questa prima settimana piena di campagna elettorale adesso si sta avviando la seconda a vostro avviso si sono inquadrati i temi reali dell'Abruzzo ci sono stati insomma scontri e confronti di un livello di un livello interessante per i cittadini e cosa invece intendete introdurre voi quale elemento di caratterizzazione e anche di differenziazione rispetto agli altri schieramenti in questo caso all'altro schieramento perché ne abbiamo soltanto due presenti in studio ma potete parlare ovviamente anche del Movimento 5 Stelle e di Casa Pound se ritenete allora questo giro impone la prima risposta da Maria Grazia D'Angelo allora questa prima settimana io poi tra l'altro devo dire siamo stati coinvolti direttamente in una serie di polemiche no? sulla partenza cioè sullo schieramento del centro-destra ma a prescindere da questo che poi è stato pienamente chiarito dal presidente candidato del senatore Marsilio quindi chiaramente io ritengo che il nostro candidato presidente abbia messo tranquillamente a fuoco quello che sarà il suo impegno per la regione Abruzzo io sono l'ho già detto sono orgogliosa di far parte di questa coalizione e ritengo che tanto possa dare perché comunque l'impegno di tutte le forze in campo e di tutti i candidati che sono veramente di una professionalità molto alta e molto importante possa sicuramente dare molto e mettere in campo molto rispetto a quello che c'è stato finora io ripeto mi propongo in questa tornata elettorale non avendo mai ricoperto cariche a livello regionale quindi è la prima volta per me però sicuramente lo farò con grande passione perché è una passione che comunque io ho che ho avuto da sempre e mettere in campo le mie competenze la mia professionalità è una sfida che mi stimola moltissimo ho visto che comunque i candidati presidenti sono stati tutti molto corretti nell'esporre i loro progetti i loro programmi e le loro idee non ho visto grandi scintille perché comunque sia sono persone sicuramente di un alto profilo io dico questo sicuramente il centro destra e le forze in campo possono dare molto possono dare molto possono fare tanto per dare un'altra direzione alla politica regionale e alla legislatura regionale quindi per questo motivo ritengo che sicuramente faremo molto bene e quindi invito a votare alla coalizione e quindi ovviamente io chiedo il voto per la mia candidatura Di Matteo diciamo che questa prima settimana ha sicuramente ha garantito agli abruzzesi intanto un livello civile di competizione di sfida elettorale questo è il minimo che ciascun candidato partendo dai candidati presidenti all'ultimo dei candidati delle liste deve garantire se ci proponiamo come legislatori regionali sconfineremmo addirittura nel grottesco se non nel ridicolo se cominciassimo ad azzuffarci detto ciò è chiaro che è una competizione ci sono degli schieramenti che hanno qualche punto in comune evidentemente molte divergenze di carattere sia programmatico che progettuale io vorrei partire andando da un dato comune tutti stanno parlando di un nuovo progetto nessuno parla di continuità e questo evidentemente è un dato comune se tutti si pongono in discontinuità rispetto a ciò che c'è stato mi sembra che un primo dato comune che emerge dalle parole di tutti i candidati presidenti e di molti dei candidati delle loro liste è quello di voler fare qualcosa di nuovo per l'Abruzzo nessuno parla di continuare ciò che di buono è stato fatto negli ultimi anni io lo ripeto non per entrare in polemica tanto meno con degli amici ma perché è un elemento di chiarezza che fa onore anche a chi si candida in uno schieramento che politicamente è la continuità di chi ha governato la regione negli ultimi cinque anni cioè il centrosinistra e il partito democratico ma che giustamente essendo i miei colleghi nuovi alla candidatura regionale hanno legittimamente rivendicato l'opportunità e il diritto di proporre qualcosa di diverso è chiaro che il centrodestra non sfugge a nessuno che non ha governato in questi cinque anni la regione l'aveva fatto in precedenza e gli abruzzesi ci hanno detto che non l'avamo evidentemente fatto bene scegliendo il partito democratico è un nuovo progetto il nostro in cui la coalizione di centrodestra ha un presidente e dei partiti che lo sostengono con anche dei movimenti civici che sono andati a far parte della coalizione la Lega ha l'ambizione di essere la guida di questa coalizione attraverso chiaramente la forza che dai numeri democraticamente dovranno uscire dalle urne ma soprattutto ribaltando la filosofia degli ultimi cinque anni noi negli ultimi cinque anni abbiamo avuto un presidente che accentrava su di sé gran parte delle competenze e dei riflettori della politica regionale noi siamo convinti che questa formula non paghi non sia produttiva soprattutto per gli abruzzesi forse potrà provocare e comportare vetrine e notorietà a chi evidentemente esercita quel ruolo ma non è sufficiente non è garanzia di buoni risultati per il bene più prezioso che noi abbiamo sono gli abruzzesi non a caso io ho scelto come slogan elettorale prima gli abruzzesi come il mio partito attraverso il suo leader Matteo Salvini dice da mesi prima gli italiani noi vogliamo costruire attraverso un progetto politico una squadra di amministratori regionali al servizio di un presidente di un programma che ponga gli abruzzesi come unica pietra miliare del proprio agire quotidiano nelle sedi istituzionali come sul territorio questo è l'impegno della Lega questo è il mio impegno personale e questo sono convinto che potremmo garantire a partire del 10 febbraio mettendo in campo competenza capacità di ascolto ma come dire bagnata da quella sana umiltà che ciascun eletto deve conservare non solo in campagna elettorale ma soprattutto dopo essere stati eletti nello svolgimento del proprio mandato Mastro Mauro tocca a lei sì io sono il colui che si è messo a disposizione insieme ad altri sei candidati per rappresentare un contenitore progressista civico solidale sostenibile che dia voce agli ultimi agli ultimi di questa società io ho accettato questa sfida per continuare a fare quello che ho fatto in questi 10 anni al servizio dei territori e dei cittadini cioè il sindaco perché fare il sindaco vuol dire ascoltare dialogare dialogare ascoltare i bisogni e poi cercare di dare risposte concrete quindi concretezza competenza idee umiltà ma soprattutto impegno quotidiano e con me tutti gli altri che con me hanno accettato questa sfida una sfida che vuole dare risposte al lavoro che non c'è all'ambiente all'ambiente alle tematiche ambientali al sociale quindi con una solidarietà di cui questa regione e questa nazione ha tanto bisogno di umanità l'umanità al centro di tutto il nostro agire politico e poi c'è un problema nella regione Abruzzo e il problema che c'è stato un accentramento delle funzioni vedete noi abbiamo 305 comuni in Abruzzo e l'ho visto in questi 10 anni c'è difficoltà da parte dei rappresentanti del territorio a dialogare con la regione che ha accentrato le proprie funzioni troppo c'è bisogno di un policentrismo di ridare voce ai territori e ai propri rappresentanti i sindaci devono avere più voce è quello di cui io mi farò portatore insieme alla civica progressista con Legnini ma c'è una necessità un comune sentire di fondo la politica come servizio quando con coloro che con me hanno dato vita a questo a questa sfida perché io ritengo che nella vita bisogna mettersi al servizio delle sfide quando il momento è più difficile è facile farlo quando tu sali su un taxi che sai già dove ti porti non è questo il punto la politica è più deve avere un compito più alto più nobile questo mi hanno insegnato i miei genitori ebbene l'obiettivo più grande è quello di ridare voce agli ultimi agli ultimi di questa società voce concreta al di là degli slogan al di là degli effetti annuncio lavoro 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 per ridare voce a quelli che un tempo erano coloro che nel primo secondo dopo guerra ci hanno consentito di hanno consentito a me che sono figlio di povera gente di fare quell'ascensore sociale che oggi i nostri giovani non hanno la possibilità di salire diamo questo contributo e questa è la sfida con Giovanni Legnini che io ritengo colui che fa da polo calamite di queste sensibilità e che gli dà speranza a un territorio ampio come quello della regione Abruzzo grazie Enrico Marini sì per concluderla qua diciamo perché io ho aderito a questo progetto forse ci è sfuggito qualcosa che vorrei però rimarcare in chiusura di questa tribuna come nascono queste due candidature ce lo dobbiamo dire Giovanni Legnini personaggio istituzionale credo che sia la prima volta nella storia della regione Abruzzo che una persona di così alto profilo istituzionale si candida a rappresentare questa regione diceva bene Francesco Mastromauro la parola ai sindaci ebbene Giovanni Legnini è sceso in campo dopo che oltre 160 sindaci gli hanno chiesto di mettersi a capo e di rappresentare questa regione sì di fare un progetto nuovo perché io non sono stato in qualche modo diciamo così arruolato perché facessi parte dell'entourage della storia politica di Giovanni sono stato arruolato perché rappresento una categoria una professionalità e certo che sicuramente se tutto andrà bene ma in qualsiasi modo al fianco di Giovanni ovviamente mi occuperò di quello che so fare meglio della sanità e quindi cercherò di portare le soluzioni che dobbiamo portare e che certo non possiamo dircele in tre minuti perché il problema è complesso ma diventa meno complesso se le soluzioni sono affidate a chi queste problematiche le conosce e con le quali ci si scontra quotidianamente questa è la candidatura di Giovanni Legnini e il progetto che è piaciuto e al quale ho aderito non è così mi dispiace dall'altra parte perché se dobbiamo fare un'analisi delle candidature del centro-destra c'è stata la classica spartizione politica l'Abruzzo in un salotto romano è stato affidato a Fratelli d'Italia la regione più piccola al partito più piccolo perché non si poteva rischiare di affidare regioni più grandi ad un partito piccolo un partito piccolo che non ha saputo trovare all'interno delle sue forze locali abruzzesi un candidato presidente con tutto il rispetto per il senatore Marsiglio ma credo che anch'io sono figlio di emigranti ma sto in Abruzzo da oltre 25 anni e quindi un po' di problemi locali li conosco perché ho fatto pure l'amministratore dieci anni ma dubito per il senatore Marsiglio che in prima persona possa affrontare magari nei primi cento giorni i problemi degli abruzzesi perché è rimasto un po' lontano ecco questa spartizione politica io la ritengo anche un po' offensiva nei confronti degli abruzzesi perché da una parte abbiamo un personaggio istituzionale che ha rappresentato l'Abruzzo tra le più alte cariche dello Stato e ci ha onorato di fare questo dall'altro abbiamo il frutto di una spartizione politica con un candidato che sicuramente otterrà forse di più da qualche selfie ma sicuramente non tanto dalla sua storia politica grazie grazie Marini abbiamo sottolineato il tempo a nostra disposizione io ringrazio per la partecipazione i candidati delle quattro forze politiche la prossima settimana alle ore sempre alle 20 e 30 vi riproporremo una nuova tribuna elettorale legata alle liste stavolta ci sposteremo in provincia dell'Aquila grazie e buon proseguimento di serata anche ai nostri tre spettatori arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti